Matteo sta diventando un'abitudine stare al Palasport per due ore, due ore e mezza per ogni partito. Sta diventando una bella abitudine, finché giochiamo queste partite, andiamo a casa tutti contenti per questo risultato, è una buona abitudine. Diciamo però che si è sofferto forse di più addirittura che con Perugia. Per un'ora davvero Ravenna vi ha dato filo da torce. Ce l'ha dato filo da torce e ce l'aspettavamo nel senso che sono una squadra che parte benissimo. Lo sapevamo, siamo stati un po' folli perché potevamo forse stare un po' più attenti, però siamo stati bravi veramente a rimontare, a riprenderci dal secondo set e anche gli altri. Voi com'è stato? Stiamo bene, giochiamo spesso. Non va bene, no, è polemico nel senso che comunque è giusto. Quest'anno è stato organizzato un calendario che sicuramente guarda tutti, meno che la salute dei giocatori, io credo. Non è una cosa soggettiva, è obiettività. Quindi io dico che noi siamo fortunati italiani perché le qualificazioni le abbiamo fatte. I miei compagni stranieri dovranno seguire a fine dicembre. Si sbaglia, si fanno degli eroi, quindi si può migliorare. Come possiamo migliorare noi, si può migliorare anche l'organizzazione di queste cose. Grazie.